eccoci dopo una lunga salita con il mio amico ercole che è conosciuto qua guardate le sette fatiche di ercole io me lo so portato così mi può spingere mi può aiutare quindi andiamo su adesso guardate che vi faccio vedere questo siamo già adesso ha cominciato la discesa quindi è un po più facile pure per me qui c'è un posto dove ci si può sedere e nell'attesa che dovrebbe arrivare ester con la moglie di ercole che sono un po indietro che loro ha detto andiamo andiamo però andiamo però ancora sono rimaste lì e poi guardate che spettacolo guardate che spettacolo che c'è qui che spettacolo adesso scenderemo sotto vi faccio vedere tutto il percorso della che porta alle gole delle vacchie vacchiole adesso non mi ricordo ora lo vediamo ora lo vediamo perché non è un poco difficile allora vediamo subito castel di toro ecco qui c'è tutto la cartina del luogo se mai ti perdi e che non è difficile e poi quindi la cascata delle vallocchie vallocchie ecco qua vedete lì c'è ester che già fiora la testa e la moglie di ercole che stanno siamo arrivati e siamo arrivati ok ora fra un minuto vi faccio vedere il resto proprio l'arrivo alle cascate